Basilicata Campania e Sicilia anticipano tutti. Nelle tre regioni oggi è già corsa gli acquisti con i saldi invernali. In Molise si partirà invece sabato 5 gennaio. Nella nostra regione il periodo di sconti durerà due mesi, ma le previsioni parlano di un ulteriore calo delle vendite stimato dal Codacons intorno al 15%. L'Associazione dei consumatori ha fatto anche i conti in tasca alle famiglie italiane. La stima parla di una spesa media di 224 euro a testa rispetto alle 450 a disposizione lo scorso anno. Per i saldi le previsioni parlano di una spesa complessiva di oltre i 2 miliardi di euro. Nonostante tutto però, oltre il 60% delle famiglie non potrà permettersi acquisti. I commercianti comunque sperano in una ripresa dei consumi per il 2013. Gli indicatori economici vanno proprio in questa direzione dopo aver toccato il picco della crisi nel 2012. Da questo punto di vista fanno ben sperare le notizie che arrivano dal resto d'Europa, dove gli acquisti della settimana prima di Natale sono cresciuti di un punto e mezzo percentuale, mentre a Londra, nonostante la crisi, si è registrato un vero e proprio boom di vendite.